ma che stretta questa buon Giulia bravo 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 buon 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 scappa 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 devo fare anche questo per quello capito però ero incerto così lo stile del gargamella stile gargamella uguale ma poi la nostra tocca sotto per quello devi farlo come lo fa lui più morbido no è vero più morbido perché ci c'è anche il vigile bravo bravo chiudila subito chiudila chiudila chi ma se la guardavi un attimino non mi fermate mai non mi fermate mai ti dico a fa 10 km ma è bello è bello devi prendere bene un filino lungo perché sono tipo di coppa però è bello da fare però è possibile non mi fermate mai non mi fermate mai Inizia il cavo. Inizia il cavo. Via, 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 non aspettare, troppo lento. Ma va? Troppo lento. Cazzo. Inizia il cavo. 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 Inizia il cavo.